in un certo modo. Per me un attore è libero di pensare di essere una giraffa belga e quello è il nostro mestiere, noi esistiamo per essere ciò che non siamo. No, dico tra l'altro Kennedy ti verrebbe benissimo. No, perché? Però è così, cioè se le regole del gioco comuni sono queste, allora a queste regole comuni dobbiamo partecipare anche noi, soprattutto nel momento in cui chi viene qui ha un risparmio del 45% di tassi. Che non è poco. Che non è poco e questo è anche il luogo giusto dove dirlo. C'è un po' per tutti una domanda.